ma intanto io mi vorrei collegare con il centro del campo se c'è Omi. Omi mi senti? Oggi piove ragazzi quindi noi siamo qua al coperto. Mi sentite? Forte e chiaro. Eccoci qua. Come va? Eccoci tutto a posto tutto a posto. Fa freschino? Sì sì stavo testando il campo è ancora agibile per non si sa quanto la palla. Posso avere un ballon? È il ballon? Garçon? Garçon? Secondo me si strappa subito. Ma io non capisco. Un ballon? Un ballon ma mi sa che qua siamo. Posso chiederle un pallone? Vediamo se rimbalza. Vediamo? Attenzione quello credo sia la panchina della fuccina perché vedo il social migliorino. È agibile è agibile si può giocare. Vabbè è sintetico andare normale. C'è il nostro difensore Hack che ha avuto dei problemi spero di averlo per la seconda partita. Una difensione importante. Cos'è che è successo? Problemi muscolari? No problemi dei treni perché questo paese è alla deriva. Un minimo di pioggia e succede tutto ciò. Però abbiamo una squadra importante. Una squadra che comunque c'è. Mi stai a ficcare il suo coso dentro la cara. Una squadra importante è una squadra che c'è a voi. Una squadra che vuole scendere in campo e piegare i tre punti. Abbiamo visto Andre il commento di Balotelli che l'ha un po' sfottuto per gli shout out se magari si era allenato. Allora abbiamo visto il commento di Balotelli che ti ha un po' sfottuto per gli shout out e volevo sapere se in questi giorni ma anche prima ti è allenato. Sono allenato. Ma le può far vedere uno subito? Sono pronto a calciare uno shout out. Può fare una dichiarazione in camera Balotelli? Mario ti faccio vedere come si calciano gli shout out. Dopo gli insulti di Faina vediamo cosa risponderà il mister Mazzei. Quanto costaranno le giardie? Mamma mia. Che cazzo ha detto? Che piume ci sono dentro? Il Faina mi ha chiesto se da gennaio può venire nella nostra panchina. Oh che carino davvero prima insulta però scusi se viene nella vostra panchina tu non sei più sei esonerato. Vabbè no famo amicizia famo tutti insieme un amichetto. Io voglio bene di Roma no? Andre chiedono se Mazzei è andato a rubare del rame. Dove ha parcheggiato il furgone dove l'ha messo. La Paina ti fa la Lazio e lui la Roma. Ma lui stanotte si è tatuato Forza Lazio sul piede. E si è tatuato Forza Lazio sul piede. Vediamo che l'allenatore e il presidente sono addirittura. Sì ma non stanno parlando loro con la squadra. Non sta facendo il discorso di squadra. Porrini? Prova a seguire il profumo. Posso dirvi una cosa? Guardate la squadra come è compatta e guardate presidente allenatore come sono interessati di questa partita. La probabile formazione della fucina abbiamo visto anche la grafica. Vediamo. E poi adesso aspettiamo anche quella dell'Olimpo. Però manca come via quella qua. Manca Abla che sarà. Allora Damiano il Faina allenatore Nardone. Vanno e vengono ancora. Vabbè c'è maltempo anche per le formazioni. E andiamo a vedere anche la formazione probabile dell'Olimpo. Tutta sbagliata. Tutta sbagliata. attenzione però. Lasciamo la linea al centro del campo. Dalla curva a sud di Milano sembra praticamente. Oh mi ci senti? Sole bacia i belli. Eh infatti. Olimpo. Non lo so baciare. La grandine della tormenta. Sì? La fucina. Ah. Quando il sole diventa tormenta. Entra. Non entra. Che cazzo di detto? No no bello 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 bravo. Scusate ma abbiamo capito poco e nulla tra l'altro. Raga ma ho dubbio che ho della prima partita. Ma gliele scrivete? O gli vengono così? No 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 no. Ci sono due o tre autori proprio che stanno dietro. Tobalotelli l'ha criticato in settimana. Paragonando. Già ridono gli altri comunque. Perché stanno che. Sì sì la chat è già di parte ma attenzione pronti a fare la clip. Perché Damiano il Faino per la seconda volta è sul dischetto della centrocampo. Spammate in chat qualcosa perché finirete in una clip storica. Parte Faina. Ma cosa fa? Attenzione. Attenzione contro Fene. Faina. 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 No. Non ci credo. Abbiamo usato la mia tecnica. Ma che ha fatto Faina ragazzi. No. Ci avevamo creduto. La mia tecnica. Incredibile. Si è allenato in settimana. Adesso lo voglio sentire Balotelli. Esce tra gli applausi. Rivediamo. Dice calma. Ci penso io. Mamma mia che giocatore. E' devastante. Fene non so. Era complice secondo te. Fene smetteva di giocare. La prossima occasione. Secondo me la cartavara è sprecata comunque. Ho servito il compagno meglio piazzato. Era quasi a porta libera. Peccato di aver sfruttato questa occasione. Peccato. Allontanati per la tua sicurezza. Se ce l'aveva davanti in questo momento. Ragazzi volevo dire che è successa una cosa straordinaria e incredibile. Per la prima volta in tutte le edizioni got Faina è rimasto al suo posto durante la chiamata vada. E' vero. Non è raro. Puoi andare dare aiuto all'arbitro quel signore che sembra un po' l'epo di Babbo Natale? No no dai. No no dai. Come si chiama? Vestiamolo di rosso la prossima volta. Che fa? Che fa? Guarda come ride. Proprio si impagna. Allora. Allora. Presentazione. Dennis. Arbitro. Ciao Darwin. Devono correre più per gli altri per non recuperare il pallone. Quattro volte in giallo lo possiamo dare. Credo no? Credo. Non lo so. Giusto. Perché si stancano. Comunque si è civilizzato. Allora. Il problema. Fosse di una cosa. Il problema è che adesso Ciccione e Faina lanceranno via tutti i palloni. Che arrivano dalle loro parti. Anche Picci. Quindi si va a creare degli attriti. Per me il giallo era giusto. Scusa Andrea ma chi è quello che hai dietro con gli occhiali da vista? Soccorritore si può presentare? Sì sono Alessandro. Piacere a tutti. No vabbè ma dove li prendete? Soccorritore. Ma dove li prendete? Ciao Darwin. Con la sicurezza di inculumitare i calciatori interlingo se qualcuno muore. Che ne è successo? No. Come? Possiamo simulare? È un altro lavoro. Io sto fermo. Io sto fermo. No no mi parla. La parlo pure io. Tu madre è capace. No. No. Eh. Il giocatore è nostro. Sapemo fa pure noi. Digli che stai zitto. Stai zitto. Sfrutta la stanza qua Ciccione per minacciare. Il forno fa spallucce. Si è scappellato tra l'altro Ciccione. Diglielo. Diglielo. Sembra Randy Orton. Attenzione. Vuoi andare da Picci? Hai il coraggio? No no Picci. Attenzione. Andiamo da Picci. Oh. Mani in faccia di Picci. È quello che ci piace però. Io l'avevo detto ad andare da Picci. Però ragazzi attenzione. Falco. Falco. Io l'avevo detto che finiva la live prima oggi. Sembra che Falco si sia attaccato con i prof Forrini. Anche Ciccione. Psicodramma Fucina signori. Il Falco è tenuto fermo da quattro giocatori in questo momento. E si sta calmando. Io l'ho detto di mettere Fucina Olimpa dopo mezzanotte. Sono infiammati in questo momento. Andiamo a rivedere un attimo però il motivo. Chiedo anche alla regia di aiutarci se loro hanno capito qualcosa. Eccolo qua. Stai zitto. Le mani al collo. Mamma mia. Da parte di Picci. Ma sai che non è iniziata dalla Fucina però? Beh qua ragazzi io credo che. Italo per molto meno è stato buttato via eh. No io credo shot out per la Fucina c'è scritto nel regolamento. In caso che se metti le mani al collo di uno. Sì è vero. Il colpa è il doppio. Qui questo non è rosso? No assolutamente. assolutamente. No no. Rosso per il nostro che noi gli abbiamo le mani in faccia di nuovo. Non diamo questi brutti segnamenti ai bambini. Provate ad utilizzare il varma. Attenzione Picci. Parte la conclusione. Picci. Sì. Sì. Eccolo qua. Il pareggio della Fucina. Due due. Sì. Santiago e il pipe Deoro Matteucci. Sì. Lo aspettavano. L'argentino Calabrese. Riporta il pareggio della Fucina. La garra. Schifo. Schifo. Di Tom Picci. Schifo. Sale in cattedra Picci. Mamma mia. Perché è veramente. Bagliacciata. Negli ultimi tre minuti sta facendo lui la differenza. Ma qua di tato. Non è vero ma di tato. Ma che cosa ha fatto? No ragazzi. Clamoroso ragazzi. Rivediamolo altre mille volte per favore. Alamancini contro il Parma ragazzi. Contro il Parma. Il garro. Il re di Arluno per ora. No è fratino. Attenzione Matteucci. Matteucci fuori. Apre troppo il piattone. L'onda energetica da bene. L'onda energetica. L'onda energetica. L'onda energetica di bene. Ma abbiamo un uomo al centro del campo. Chi è? Eccola ragazzi. Oggi su tutto Milano regna l'unico re di tutto Milano. Io ho avuto anche le minacce di Ibra. Le minacce? Sì le minacce di Ibra. Perché Ibra mi hanno fatto capire che lui è l'unico re in tutto Milano. Ma non è vero. Perché l'unico re in tutto Milano è Gilbert Nana. Sempre umile comunque. Perché la gente è come noi. Non molla mai. La gente è come te. Molla sempre. Non so se stringere la mano perché ci tengo la mia mano. Buonasera Danny. No dagli un pugnetto. Buonasera. Buonasera. E benvenuti in God. Tra l'altro Danny. Tra l'altro. Non romperla. C'è sempre paura. Grazie mille. Grazie. Eccoci qua. Che voce calda. Eh sì. Hai fatto un discorso. Non me l'hanno permesso. Ci tenevo parecchio. No mi hanno fermato. Mi hanno detto no la prego. Invece mi ero anche preparato per motivare i giovinotti. Come lo muovete? Ti veresti qualcuno? Soprattutto col freddo. Sai che col freddo c'è qualcuno che diventa un po' più fighetta in quelle robe lì. No infatti. Io di solito così. A me mi è già lento. Allora so che tu di calcio non sei un cazzo ma neanch'io. Questo ragazzo. Guardate bene questo ragazzo. È un fratello per me. Anche se si fai di stupido le volte. Lo voglio bene ma dopo la partita. Ti tocco la salpanta. La salpanta? La salpanta. Vuoi toccare? Sì io voglio toccare la salpanta. Tocco la salpanta. Allora ragazzi per favore. A questo punto faccelo toccare anche a noi perché se no. Aspetta. Prendo le distanze mi dissocio. Sì sì. Ma con cosa è entrato Danny? Guardate Danny scusatemi. Attenzione Danny Lazzari nel centro del campo. Ma ha una spranga. Ma è vero? Come ha una spranga? No aspetta Danny. No. Non è iniziato. Vediamo con le tiber l'altra. Tanto credo che... Sono le scarpe di Chessy. Credo stia andando a parlare con Filacorda. Lo stia minacciando. Non vale. No ma non vale. Io direi 1 a 1. Se per voi va bene. Guarda. Credo sia... Dove sta andando? Ragazzi ma Danny c'è la... Sembra la WWE. Esatto. Questo sta dicendo. Ti piace moltissimo. Ovvio voglio... Stai andando a parlare con il nostro direttore di errori arbitrali. Il nostro Giuseppe. Perché gli diceva Danny hai 10 secondi per arrivare alla porta e Danny è inturbolito. Mettiamola così. Arriva Maui. Cioè addirittura i giocatori. Comunque pesa. Anche Maui fa fatica a tenerla. Con due mani. Danny Lazzarin contro Pietro Filacorda. Vediamo. Gli stanno insegnando come si corre credo Danny. Che l'ho visto l'altro giorno in un video con Franchino. Un po' ingolfato diciamo sullo scatto. Cardio autonomia 10 secondi. Corre perché c'è 10 secondi. Aspetta l'arbitro. Aspetta l'arbitro che fischia. Attenzione. Quindi Danny Lazzarin contro Pietro Filacorda. Minchia si è incazzato. Prega il rosso. Secondo voi la butta dentro? Prega anche il rosso. Vediamo. Io spero per Filacorda di sì. Però sono contento che il rosso metta le mani lì e non nelle palle come fa di solito. Sono due ideali diversi. Per la sorte comunque. Aiutano tutte e due. Vediamo. Sullo sfondo anche Leo Boom. La benedizione. Bella immagine questa. Peccato che venga sparata all'otto. Mamma mia. Mamma mia. La nostra regia. Che ci va a prendere veramente. Il momento esatto. Attenzione Danny Lazzarin. Non ha voglia neanche di corso. Con le Timberland. Parte Danny. Supera. Eh. Dai dai. Chi tira via la palla. E credo che valga così. 1-1. Applausi per Danny Lazzarin. 2-0 scusate. C'era una domanda a Ross che gli volevo fare. Come mai all'inizio della partita quando si schierano le squadre lui si tocca il cazzo finché non arrivi a centrocampo. Perché ti tocchi il cazzo finché non arrivi a centrocampo all'inizio della partita? Perché ieri sera non ho chiamato. Grazie. Ah, le prude. Vedi. L'onestà. L'onestà di un uomo. No, no. Tra l'altro capita tutte le volte che giochiamo. Spero che non sia una cosa che tutte le mattine sia così. Intanto rivediamo l'esultanza e c'è l'8 che non in palla. No, arriva. Arriva. Arriva il 9. Sperti, ma è una mia impressione o in questo secondo tempo il gioco si è spostato dalla parte della mia squadra? Sono d'accordo. Ma attenzione! Il normal Bertocchi! Bertocchi! La certezza. La certezza. 5-2. La certezza. È tornato. Ha sentito. Sì. Avete visto? Ha sentito il mio essere adirato e ha detto no. No, no. Rosso ha fatto un elicottero in cam. No, veramente? Seder hanno buttato via una partita che era già chiusa. Degli sciocchi. Tensione a bordo campo. Arriva Gilbert contro il rosso. Vediamo. Parole forti. Omi, omi. Attenzione. Rimaniamo lì. Ragazzi. Che cazzo a voi? È 7-7. Gilbert, stai calmo. Che cazzo a voi? Irriconoscibile. Rimaniamo lì. Ma scusate, ma è una zuffa. Pari, pari. Vado anch'io. Allora, praticamente c'è stato un... Anziore. Dicono che sia... Allora, praticamente stanno dicendo che non sono più uno sopra gli outsider. In realtà... No, sono 7-7. In realtà sono 7-7, ma gli outsider... Andre, io sono qua con Danny Lazzar in Andre, che si è un po' innervosito quando ha sentito Gilbert Nanna. Se lo vuoi comunicare ai Golden Steak... Io sogno Vrestelmanian. Cos'è? 40-40, Danny Lazzar in contro Gilbert. Allora, lasciamogli un piccolo avviso, una visaglia, diciamo, una piccola anteprima. Se c'è bisogno arrivo. E' un po' di nervosismo, ma questo non fa bene a nessuna delle tue squadre. Stiamo facendo un massaggino a Danny per rilassarlo. Io... Per piacere. 20 secondi. 20 secondi. Allora, torniamo in campo, ragazzi. 7-7. Tensione altissima. Niente, mi sa che gli ultimi 4 secondi la utilizzeranno gli outsider. Vediamo. Ma è in nervosismo. Finisce qui. Vincono gli outsider dopo una partita strepitosa. Attenzione, andiamo... 8-7, Omi. Sta succedendo di tutto, ragazzi. Allora, 2 secondi, potremmo fai... Che cazzo fai? Isabo, ma nella panchina dei Golden Steak. Mi sembra che stia succedendo di tutto, Omi. Enzo abbandona il campo. Arrabbiatissimo, il pomo del Palagianello. Allora, Pegu, la giorno tra poco... È clamoroso, Pagino. L'avete usata voi. Poi, dite al nostro giocatore che deve battere subito, avevamo 5 secondi. Ma non si fa così. Se c'ha 5 secondi potevamo fare l'azione. No, ma lo sapeva. Ma lui ha scelto, ha scelto deliberatamente di tirare. E allora è uno strozzo! E allora è uno strozzo! Allora, un attimo, Pegu... Complimenti al nostro fragolino. No, ragazzi, oddio, ragazzi! Attenzione, perché si va le mani, è succio! Regia, stacchiamo un attimo, pesante situazione. Non se la sono mandate a dire. Attenzione. Mi ricorda un po' una scena di Pop TV old school. Ragnar, spiegaci questa maschera. Signori, è tempo... Ancora una volta di novità. C'erano pecore smarrite. Per il solito è quella nera, in questo caso è quella bianca. Ok. E come ogni buon pastore, l'ho recuperato. E adesso fa parte di noi. Signore e signori, diamo il benvenuto ai Pegasus. A lui. Fabio Di Mauro, un ex Blancox. No! Il tradimento di Di Mauro! Signori! Mi sa che non ha più voce, è talmente esultato del... Ragazzi, ma questo è un acquisto della Madonna. Ma poi fatti in faccia la dose così. Però ragazzi, non so se è un vantaggio, perché è fratello del portiere. Mi hanno detto che ci sono picchiati varie volte in carriera, loro due. Quindi magari nel team ci sarà un po' prima. C'è rimasto... E poi... E poi è pesato. Alessia, come ti è sembrato questo primo tempo? So che sei arrivata dopo, ma la ruota poteva dare un grande vantaggio alla tua squadra, ma così non è stato, perché comunque avete rischiato. Abbiamo rischiato, ma comunque c'è tanto voglia di vincere e secondo me ce la possiamo fare, perché sono carichi super positivi e specialmente le ali. Le ali del pollo? Le ali nella squadra, non sleali come... È un dissing? Qualcuno mi ha detto che sono stati sleati, però io non l'ho seguito troppo, devo dire la verità. Frecciatina educata. Beh, in elicottero non prendeva il primo tempo. Ma c'era con noi. Ma passiamo all'Alessia Lanza della fucina. Sciscione? No! No! Ma che fermo? Che dici? Come fai? Che tirami? Che gli ho detto tira? Ma che sei scemo? E chi chiama? Ma che pezzo? E quello c'è la porta, la porta, la porta per sentire quello che dico io. E tu te la pico a me. Ma le vostre sento due minuti. È bello vedere che sono comunque uniti, che c'è uno spirito di gruppo. Sempre molto educati. Ma che cazzo? Sta sempre a bladerare. Arber Zanelli, poi Caronte, Caronte! Ma che gol ha fatto? E gol! 3 a 2 al decimo minuto. Il contogliere delle tenele. Lo voleva lui, ha detto tira, tira, tira. Lo voleva lui, deve esultare. Attenzione però. Deve esultare, deve esultare. Raglar, in faccia Sciscione. Adesso devi esultare con noi. Attenzione perché... Fa' c***o la bolla. Fa' c***o la bolla. Raglar, in faccia Sciscione. La fucina gioca una carta. Tre punti per questi Pegasus. Come ti senti? Reazioni a caldo. Credo che siano molto meritati. La nostra squadra è buona. Sono uniti. Non si fanno troppe storie. Si gioca e basta. E mi raccomando adesso, non dare la mano agli avversari. No, vabbè. Comunque la partita, se si gioca, è un gioco. Allora, mano tra i mister. Me la dai. Cosa sta tirando fuori? Ciao, Nadello. Un mitragliatore. Si toglie i quanti da assassino. Ah, ok. Il mio per voi, no, per la partita. Ma che schifo, tutta sudata? Beh ragazzi, il dato è tratto purtroppo. Tanta sfortuna. La federazione che fa vomitare. Regoline fatte a mestiere proprio contro la fucina. Però va bene così. Ma dove è Regolino? Contro tutti e tutti. No, il pancio fa schifo proprio. Però, insomma, ce li proveremo. Non so fra quanto. E ringrazio Ragnar. Omi Atoll si mola per la Lega. Vediamo, Omi Atoll. Baciato, catechizzato da bene. Io vorrei vedere Gravina. Ma che è sta cosa? Gravina l'ha già scappato qua. Invece guarda Omi come sta lì. Li stanno... Vediamo. Arriva il fischio. Parte Omi. Che ci tira sui pantaloni. Omi. Omi! Mamma mia. Passaggio. Vabbè, ma dai. 90 metri ha tirato. Cioè, è il Papi Barrios. Ti farà parlare questo shot audio. Sì, ma... Fratello, fammi pareggiare questa partita. Sei carico? È pesante come responsabilità, ma cercherò di fare il massimo. Se segni ti levi la maglietta? Ti do io una maglietta al massimo. Oh. C'è un po' il tosta ancora in pancia, però. Vabbè, magari. È un po' teso, però, eh. Io lo vedo teso. È vero? Non ha la faccia con la classe. Dove prende per il culo un po' tutti, eh? Vai, fratello. È la nostra occasione, caro Deca e caro Alex. Vai, Andre. Saremo la voce dello shot out di Pancio. Siamo nella storia. Eccolo qua. Andrea Panciroli. Contro Fene. Parte Pancio. Pancio. Pancio! Eh, ha tirato un po' come Manfredi, ovvero una ciocchietta fuori. Eh, sì. Omi, vediamo da Gilbert. Ti voglio sentire cosa ne pensa. Se si è caricato, perché lo vede un po' più... Cioè, vederlo così... Cosa ne pensi dopo questo gol? Penso che dobbiamo ritornare, dobbiamo ritornare. Ma vi hai dato un po' di grinta? Eh, sì, sì. Dobbiamo ritornare, ragazzi. Dobbiamo ritornare. Siamo a 4-2. Possiamo ancora ritornare. Tutto è possibile con la ruota e soprattutto ritornano 7 contro 7. Eh, 7 contro 7, ma ora i Golden Stake possono tornare. Voglio comunicare a tutta la Lega che do le mie dimissioni. No, non è vero. Sono rotti i coglioni. No, 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 no. Stai cazzando? Sì, sì, lascio la Golden Stake. La chietana. No, no, sono serio. Basta, perché c'è gente dietro la squadra, i piani alti, che è distruttiva. E non possiamo fare nomi. No, aspetta, non ho capito. Ma ti sposti a fare la dirigenza? No, vado in un altro club. No, non è vero. No, non è vero. Anche il pollo è scarico, devo dire. Sì, il pollo oggi mi ha meno... Avrà freddo. Ragazzi, però Ale, tu lo senti questo profumo che c'è intorno? Io credo che sia qualcosa che avrà coinvolto un po' i giocatori, no? Eh, direi di sì. Aggiudicare dal CIL, sì. Eh, sì, dai. E credo che sia sativa. Sì, sì, confermo. Da grande esperto. Ma torniamo in cronaca, ragazzi. Prima che ci bannano. Tanto Anna Ciatti... Anna Ciatti che tossisce con le carte in mano. E di fianco c'è la sosia, praticamente. Una ha il cappello e l'altra le cuffie. Poi scegliete voi il modello che vi piace più. Vabbè, potete... Ancheggiano anche per intrattenere. Di sicuro è molto più intrattenitivo della partita. Eh, sono scelte... Una le carte, una no. Però posso dire che finalmente abbiamo un regista che dopo Cenci coglie le cose importanti della partita. Lo saranno dicendo. Chi mettono in campo... Eh, ma non credo, sai. Perché sono già in campo. Attenzione. E ora... E si va alle mani. Eh... Situazione pesante. Ed è quello che piace. Ah, oh, lasciamo la linea Omi. Bella questi quelli. Allora, no, no. Mi piace. Allora, allora. No, no, stai calmi. Siamo calmi. Stiamo calmi. Allora, il pollo ha spruzzato... Questa è la figura di... Allora... Ragazzi, io mi prendo la responsabilità. Il pollo è spulso fuori dal campo. Ha spruzzato in faccia della sorta di liquido seminale. Non lo so. Ma cos'è? Si può espellere che non è neanche un giocatore. E spegliamo il pollo. Attenzione. Guarda. Stula in basalari. Guarda mia. Attenzione. 8-5 Pegasus. No, ragazzi, non ci credo. Ragnar e i Pegasus volano in testa al girone. Vale, vale, vale. 8-6. Vale, vale il gol di Bertocchi. Alessia Lanza vola in campo. Era dentro. No, vabbè, vabbè. È morto il pollo, finalmente. No, ovviamente. In testa la classifica del girone bianco ha quota 12 punti. 12 punti. Ne ha vinte 4 su 4. Davanti agli Olimpo, che sono a 11. Sono a 11. Gli outsider a quota 6. Fucina a quota 3. Golden Steak. Taralbo. Taralbo, ragazzi. Ma è solo il girone d'andata, Omi. Io vorrei bannare il pollo, perché ovviamente mi dà un grandissimo mal di testa. È arrivata anche Alessia Lanza e tutti stanno festeggiando. In stile Alessia Lanza. In stile Alessia Lanza. In stile Alessia Lanza. Dicono che l'abbiano messa anche sul FIFA. Eh, speriamo. Mamma mia, guardate Ragnar. Ma perché Ragnar ha solo dei personaggi così? Non lo so, sono tutti animaleschi. Ragnar. 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 Grazie a tutti.